Così come accadde per i luoghi della vita è bella, noi ci troviamo in questo momento nella discesa più fotografata perché qui Benigni gridava Maria butta la chiave per poi accedere ovviamente a Piazza Grande. Si spera che questi altri due set, uno al Teatro Petrarca e l'altro alla stazione di Pescaiola portino altrettanto turismo ad Arezzo, ma intanto comunque le presenze ci sono. Da Bari. Da Bari, ecco, ha deciso per la Toscana o per Arezzo in particolare? Per la Toscana, ho deciso, sono in alloggio a Montepulciano e sono qui stamattina un giro ad Arezzo. In questa settimana le star di Hollywood e anche i grandi nomi del cinema italiano hanno scelto proprio Arezzo come set per le loro location. Basta dire George Clooney e Adam Sandler che hanno girato alcune scene del film di Netflix J. Kelly all'interno del Teatro Petrarca. L'altro set è stato allestito alla stazione ferroviaria di Pescaiola per il film di Gianni e Amelio Campo di Battaglia, protagonista Alessandro Borghi. Così come accadde per La vita è bella, la speranza è che anche in questo caso le pellicole facciano da traino per il turismo. Assolutamente, quello è stato un'epoca d'oro, un film straordinario, speriamo che questi nuovi film e con questi grandi attori possano portare tutto quello che ha portato la vita è bella ad Arezzo, assolutamente. Ma ci sono le star anche del Rinascimento, non si offenda Clooney a portare turismo ad Arezzo come nel caso di Giorgio Vasari. Sono molto felice di essere qui, andrò proprio a visitare Casa Vasari che si trova poco lontano da qui.